io ritorno qua in calabria otto anni fa la possibilità di venire qui non essendo cresciuto lavorativamente parlando in questo ambiente poteva dare la visione di qualcosa di differente il motivo per cui ho deciso di tornare qui in calabria è perché credo in questa regione una regione che ha materie prime straordinarie venire in calabria ha sicuramente portato dei sacrifici dovuti in primis al fatto che non sono cresciuto qui quindi quando io sono arrivato qui ero completamente da solo sono cresciuto in una famiglia in cui si è sempre preoccupata del meteo era un grosso problema da un punto di vista lavorativo quindi quello che ho cercato di fare io è cercare di trovare soluzioni che potessero uscire dalla spada di Damocle del clima oggi ci vuole sicuramente coraggio sicuramente sperimentazione quindi innovazione quindi non possiamo restare ancorati a determinati tipi di culture con le innovazioni di oggi con i macchinari di oggi può diventare sostenibile e anche remunerativo in agricoltura c'è un sacco da rinnovare la calabria ha bisogno di internet perché internet ci permette di appiattire le distanze ci permette di lavorare da ovunque possa creare un'immigrazione inversa cioè da su a giù coraggio non vuol dire non avere paura coraggio vuol dire affrontare le proprie paure ed è la spinta più forte che ci sia